buongiorno buona domenica allora mi raccomando continuate a guardare il video perché poi darò la previsione gratis avete visto abbiamo centrato lambo 3 8 con la previsione che avevo dato anche quella col 29 andato a segno stanno andando tutte a segno le previsioni gratuiti che sto dando qui su questo canale youtube quindi adesso ne darò un altro quindi chi vuole seguirmi si sorbisce come si suol dire si segue anche questo mia pubblicità di questo metodo la spia 3 di palermo chi non vuole seguirlo va avanti col col come si dice col cursore anche se credo che vi conviene anche sentire questo metodo che ho da proporre ok allora la spia 3 di palermo che cos'è è un metodo che quando esce il 3 a palermo si mette in campo una bata su firenze genoa che ha una percentuale altissima di uscita e poi ci sono degli abbinamenti sia per quanto per poter centrare l'ambo secco sia per poter centrare il terno secco andiamo a vedere la statistica di questo metodo inoltre chi non è interessato a questo messo metodo che ha un costo irrisore ripeto un costo irrisore non stiamo parlando di cifre esagerate per un metodo quindi chi è interessato può acquistare il metodo chi non è interessato può provare a giocare lambata 30 su genoa firenze ok provate a giocare lambata 30 su genoa firenze ok questa è la statistica ogni volta che esce il 3 a palermo su genoa firenze esce il 30 poi ci sono dei calcoli da fare per l'abbinamento per amba e addirittura c'è il calco da fare per il terno ok questi sono i risultati come vedete ha centrato tantissimi terni tantissimi ambi secchi e fino adesso non ha dato nessun asido negativo logicamente gli esiti negativi ci saranno certamente ma se seguiamo il metodo a meno per 2 3 volte i risultati ci saranno ok poi se non ci sono i risultati mi scrivete su whatsapp e vi do vi cambio il metodo nessun problema perché rosario gallo è chiaro non illude nessuno sa benissimo che le certezze all'otto non esistono chi invece vi dice che ha metodo infallibile soltanto una persona da evitare perché vi dice delle stupidate ok adesso c'è la nuova previsione in corso ok chi è interessato al metodo mi contatta ha un costo piccolo 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 quindi tutti possono provare a seguire questo metodo poi se uno dice ma per esempio adesso vi faccio vedere l'ultima previsione era 30 90 30 83 30 70 uno non è detto che deve giocarle tutti in ambi si può anche mettere i numeri insieme e giocarle in lunghetto oppure dividerli mette 30 per dire 30 18 90 83 30 18 87 78 30 56 logicamente questa è la vecchia previsione adesso ci sarà una nuova previsione con il 30 non è questa la previsione in corso e non non confondiamo le idee ok bene adesso vi do la previsione gratuita da seguire ok andiamo a vedere subito ed ecco ragazzi la previsione gratis per tutti voi eccola qua cagliari milano lambata è il 53 per chi vuole provare solo lambata per lambo eterno giochiamo 30 33 53 allora vi spiego anche qual è il lambo base perché poi se andate a vedere vedete il 30 53 presente nella terzina quindi 30 53 è lambo base vedete anche nelle due quartine c'è lambo 30 53 infatti nella prima quartina troviamo 5 30 39 53 quindi 30 53 presente nella seconda quartina troviamo il 30 53 68 82 come vedete lambo base è sempre presente ok uno può decidere anche io mi gioco lambo base la terzina può fare anche così oppure decidere di giocare come ho scritto io qui c'è la previsione va giocata così lambata potete se le persone non chi non ama lambata può anche non giocarla perché per me lambata è sempre un gioco al recupero è mai un gioco per portarsi qualcosa in tasca c'è viene usata per questo perché se lambata scusate da undici volte la posta logicamente noi non è che possiamo puntare tanti per prendere qualcosina ci dobbiamo mettere un numero 23 11 non è che ci cambia la vita se vogliamo portarci qualcosa in tasca dobbiamo almeno pensare di portarsi un 100 euro in tasca quindi dovremmo puntare 10 euro sul sul lambata ma poi dopo dieci colpi i 10 euro se c'è lambata avete recuperato soltanto i vostri soldini ok un attimo solo bene poi logicamente qualcuno mi chiederà quanti colpi allora si inizia da martedì ok dobbiamo giocare almeno queste due settimane quindi sarà sono otto colpi poi chi riesce gioca anche la terza settimana di solito sono 12 13 colpi da giocare io il minimo cioè il minimo colpi per una giocata all'otto sono 7 8 colpi quindi decidete voi se smettere a 7 8 colpi oppure continuare per i 13 colpi previsti per una previsione io ripeto io sono del parere che una previsione una buona previsione deve avere 13 colpi di gioco poi c'è chi vi dice un colpo due colpi tre colpi beh se riescono con 100 previsioni in 2 3 colpi a farvi andare in cassa sono bravi perché hanno dato 100 previsioni io do una sola previsione e dico di portarla avanti per 13 colpi logicamente se esce a me dice ma quello però 13 colpi invece quello che ha dato 100 previsioni in 45 colpi è più bravo di me va bene ci teniamo anche questo comunque ok io con questo finito ragazzi ripeto le previsioni che ho messo su youtube le avete visto stanno uscendo tutte se volete provarci anche con questo logicamente la garanzia non c'è di vincere non ci sarà con nessuno non fatevi illudere da chi vi dia la garanzia di vincere perché non c'è garanzia all'otto se se ci fosse la garanzia quest'ora io sarei un uomo stra ricco ma non ci sono garanzie con questo finito buona domenica a tutte buona vincere sempre con rosario gale con previsione vincenti punto it